Siamo giunti a fine agosto, ultimi giorni di ferie per la gran parte degli italiani che da lunedì torneranno alla routine di tutti i giorni e al loro lavoro. Questo periodo coincide anche con la fine dell'estate e dunque con gli ultimi giorni passati sulle spiagge. Spiagge che in questi quattro mesi di calda stagione hanno visto popolarsi di tanti bagnanti e proprio per questo siamo andati a raccogliere un bilancio quasi finale di alcuni gestori del litorale pesarese. Chiaramente quest'anno il meteo ci ha aiutato tanto perché maggio, giugno, luglio con delle temperature altissime e quindi per noi, per il mare, per tutta la situazione balneare è ottimale, però abbiamo avuto molto turismo locale, quindi pesaro, introterra eccetera e anche italiano, nel senso le varie regioni d'Italia, secondo me abbiamo riscosso un buon successo. Sul discorso invece degli stranieri, Germania, Francia, che di solito hanno una buona frequenza nei mesi di giugno e luglio, quest'anno è stata molto più bassa, però comunque possiamo dire che è stata un'ottima stagione, un ottimo 2022 per noi qua al mare. Anche sul discorso serale, perché comunque qua c'è un clima ottimale di sera, quando magari nel centro città e in casa si soffre un po' il caldo, qua non c'è bisogno di condizionatore e si sta da Dio. Diciamo che la stagione è sicuramente positiva, soprattutto per il tempo, magari la gente, non dico che non c'era, c'era, ma magari stavano attenti più a spendere, però essendo tutte giornate di sole, è tempo buono, quindi nel lungo abbiamo sopperito a qualche mancanza di incasso, nel senso che qualcuno stava più, ecco come dico, per gli aumenti che ci sono in giro, la gente è un po' più parsimoniosa. E quindi sicuramente è una stagione positiva, non ci possiamo lamentare, perché sennò hanno ragione a dire che i bagnini e i albergatori sono solo piangere. Che turismo avete voi, più locale oppure più straniero? Noi lavoriamo al 90% col turismo locale, poi il passaggio è poca roba, però vedo anche quelli che lavorano col passaggio, insomma, hanno lavorato discretamente bene, quindi sicuramente positiva. E poi tanti mesi di stagione che è durata più del previsto. Esatto, da maggio ha cominciato il tempo buono, siamo a fine agosto ancora buono, quindi penso che forse si potrà prolungare anche a settembre, quindi diciamo che, anzi, speriamo non troppo, perché qui siamo tutti stufi, gli operatori, perché essendoci giorni di pioggia non hai mai il tempo per recuperare. Nella posizione in cui siamo noi viviamo più che altro di turismo locale, del posto, però onestamente bisogna dire che c'è anche qualche turista che non è proprio del posto, che viene da fuori abbastanza bene, diciamo, da quel lato del turismo. Anche perché il tempo è stato favorevole, quindi è innegabile, però giugno per noi, bello brutto, cambia poco, avendo tutte le cose locali, la gente lavora, viene solo il fine settimana. Per un'estate che è stata più lunga delle altre, visto che è iniziata aprile e maggio, fino poi a settembre. Speriamo che duri oltre. L'estate sicuramente è stata lunga e calda, siamo partiti aperto a Pasqua, abbiamo aperto, poi da mazzo le temperature sono sempre state quei 4-5 gradi sopra la media, quindi non ci possiamo lamentare di niente. Speriamo nei prossimi giorni, fino a settembre, di avere qualche giornata di sole ancora per sfruttare il lettino e l'ombrellone il più possibile. Una stagione mai vista, una stagione lunghissima e quindi è stata anche molto, molto impegnativa. Sì, molto impegnativa, non ci ho mai lasciato una mezza giornata libera, c'aveva il personale che quasi supplicava un po' di pioggia, come noi stessi titolari, quindi è andata bene così. Fortunatamente abbiamo lavorato, lavoriamo 5-6 mesi all'anno, ma puntiamo a fare il più possibile, quindi è bene così, che se ne fossero delle altre nel futuro. Grazie.